A chi sta? A finese la saluta! A finese la saluta! L'acqua se funerà! Sai come si chiama la tua malattia? Amore! Testa di cazzo! Posso almeno andare al bagno? La tavoletta! La mangio la tavoletta! Signor Bressan! La zi Anna non c'è più! Ania! Ania Covacci! Io la chiamavo Anna, va bene? Ma è scemo? Ma lo colpisci sempre! Quelli siamo in frequenza! Come dite quei ragazzi? Se non sballo eh! Un'epifania! Eh? Un'epifania! Concentration! Mio nome presteso è Zoran Spazzapan! Chiamati come vuoi, l'importante è che devi stare muto! Ma credi che basti vincere quattro salami per farmi contento? Come fai ad occuparti di un ragazzino come Zoran? Perfetti? Ma se fosse questa la mia ultima possibilità! Wow! Grazie nipote! Grazie a tutti!